Ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutti, parlo a voce bassa perché mia nonna sta dormendo e quindi niente, come state? Spero bene, nuovo video, che grigio, dunque che dire, aspettate un attimo che vedo una cosa strana, ok, niente, allora, come vi va? Io tutto bene, a voi? Io sto cercando di fare questo video, adesso perché poi non so quando ne farò altri e il prossimo sarà Maris, con tutti i finiti beauty, a questo punto è un video per parlare un po' con voi voi state tutti bene, io spero di sì e niente, oggi sono uscita in giro, fa una bella passeggiatina ancora il tempo è bello stabile, non so fino a quanto perché appunto vi ho appena detto tre commenti che vi stavo rispondendo ma sto dormendo perché, allora, innanzitutto ho sentito le spaviglie ma non ho fatto nessun tipo così, no? quindi vabbè, allora vi stavo rispondendo nei commenti che il tempo è bello ma sembra che vuole piovere e non piove per niente quindi non lo so ragazzi miei cosa dirvi sembra che vuole piovere e non piove e vabbè, niente sì, a parte i quali che appaiono in sottofondo però vabbè e nulla e poi che fate di bello io nulla di che a parte che sto facendo tante storie tante, con le poche storie che faccio su instagram a proposito seguite qua sotto che metto il nickname del mio profilo instagram e e mi chiamo youtube melania trattino basso 8 e basta poi su tik tok se volete seguirmi ci metterò tutti i link nell'info box e niente sembra un video smr ma non lo è però dove può essere e quindi che dire io sto cercando di fare il più video possibile perché voglio arrivare il più possibile i miei iscritti il più presto possibile però è vero che si che paga la costanza però pagano anche i video interessanti non come questo che faccio sempre io anche questo è vero già è nulla è nulla e questo è quanto e poi niente tutto qua ho già mangiato ho già mangiato una bella bistecca buonissima squisita e niente nient'altro io resto ho una o due fette di salame ho bevuto qualche sorso d'acqua anzi un sorso d'acqua e mi ho portato un caffè dopo pranzo e adesso mi sto registrando un bel video insieme a voi nulla di che quindi va bene così ah sono vestita così sono in pigiama ma il resto sono vestita con questa semplice maglia e il collo bello alto e niente a parte il trucco che mi hanno messo un lato su gli occhi ma il resto sono truccata adesso non so se si capisce vedete sono bella truccata tranne che gli occhi e niente ok ragazzi questo era tutto e sono un po' usciti sono uscita preparato oggi e non ho fatto male dice tranne che che credo un po' con una mia amica che sapete che questa amica non è proprio un'amica però più o meno lo è e niente io vi saluto ci sentiamo in un altro video quando mia non si sveglia ok a presto un bacio ciao ciao ragazzi like commento iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle ciao 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 Grazie a tutti.